In Italia dal 2011 aveva da subito iniziato a vivere di espedienti, ricavando il necessario per vivere dai furti messi a segno e dall'attività di pusher. Si tratta di un cittadino serbo che nel primo anno in Italia ha collezionato sei arresti per spaccio di sostanze stupefacenti che lo hanno portato ad una prima condanna. Nel tempo ha poi accumulato nove condanne tra un reato e l'altro, scontando tutte le volte solo parzialmente la pena inflittagli. Il Tribunale di Vicenza ha emesso un ordine di esecuzione per la pena residua, pertanto gli agenti della squadra mobile di Vicenza lo hanno rintracciato e portato in carcere a Vicenza dove dovrà scontare la pena di un anno e due mesi di reclusione.